Ciao ragazzi, ciao ragazze e benvenuti in un nuovo video finalmente nella nuova location so che alle mie spalle sembra molto confuso, in realtà non è che sembra, è molto confuso sono ancora in fase di work in progress per quanto riguarda la mia postazione make up quindi devo sistemare ancora bene 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 il tutto detto questo fatemi sapere se la luce va bene, se l'audio va bene perché comunque voglio capire anche i vostri gusti, voglio capire se continuare a girare i video in questa postazione probabilmente cambierò posizione, però per quanto riguarda la location credo che questa non sia malvagia detto questo, questo è finalmente il video giveaway dei 30.000 iscritti grazie di cuore, grazie, 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 è un traguardo che sognavo quindi grazie, non posso che dirvi grazie questo è un piccolo presente per voi, ora vi andrò a mostrare i premi prima di mostrare i premi voglio dirvi appunto le regole fondamentali per questo giveaway insomma, allora se volete partecipare potete partecipare, possono partecipare maschietti i pelinucce, signore, signori, possono partecipare tutti perché anche appunto se dovesse vincere un maschietto lo regala alla sorellina, lo regala alla fidanzata insomma possono partecipare tutti, anche le nonne e i nonni possono partecipare a questo giveaway regole fondamentali essere residenti in Italia, quindi non spedisco all'estero se vivete all'estero, mi dispiace, mi dispiace ma non spedisco all'estero essere iscritti al canale, se non siete ancora iscritti qui troverete giù un pulsantino con la scritta iscriviti se volete potete attivare anche la campanella così che magari la prossima volta, nei prossimi giveaway vi arriverà direttamente la notifica e anche per quanto riguarda i miei video vi arriverà la notifica se volete potete anche non attivare la campanella, la campanella non è obbligatoria assolutamente l'importante è essere iscritti al canale, lasciare un massimo di tre commenti quindi potete lasciare tre commenti, vi consiglio di non lasciarli nello stesso giorno ma di lasciarli durante la settimana, quindi tre commenti durante la settimana proprio perché poi youtube li considera spam e quindi vanno in una cartella a parte questo è il mio consiglio prettamente personale poi fate come volete ok, detto questo, se avete instagram vi consiglio di seguirmi anche su instagram perché insomma io li sono molto molto più attiva altra regola è quella di condividere questo video semplicemente su facebook, insomma dove volete detto questo, quindi niente di particolarissimo nei commenti non scrivetemi uno, due, tre perché io quelli non li considero scrivetemi qualcosa di sensato, magari qualche consiglio, fatemi un augurio, quello che volete l'importante è che sia qualcosa di sensato oppure scrivetemi cosa volete per natale io poi sceglierò un commento, lo sceglierò io e il vincitore e la vincitrice ve lo lascerò giù nel box informazioni tra più o meno una settimana quindi non venite mai a chiedere che fine ha fatto la vincitrice o il vincitore del giveaway perché io lo scriverò nel box informazioni e sarà mia premura contattare direttamente il vincitore o la vincitrice quindi spero di essere stata chiara le regole queste qui, se ho dimenticato qualcosa le trovate nel box informazioni mi raccomando rispettatele detto questo vi mostro subito i premi allora, come prima cosa qui c'è un set di pennelli stupendissimo stupendissimo, non so se si può dire forse no allora, questo set di pennelli è fatto in questo modo qui sono tutti i pennelli da viso vi scrivo che non si capisce nulla è anche il ragone allora, vi tolgo la carta sono fatti così cioè, io non ho girato subito il video perché la maggior parte dei premi non mi erano arrivati ancora quindi attendevo il tutto sono fatti così sono fatti a forma di rosa e appunto il manico è fatto proprio a forma di stelo cioè, è bellissimo oltre al fatto che sono strastramorbidi sono setole sintetiche però sono veramente, veramente morbidi e questi sono pennelli da viso sono 2, 4, 5, 6 pennelli da viso bellissimi poi abbiamo questo qui che non vi sto ad aprire cioè, non vi sto ad aprire però è questo semplicemente questo è questo specchio è questo specchio led che sicuramente avrete visto alle youtuber americane ed è uno specchio ora non si vedrà proprio più nulla perché appunto non so se si vede ma si sono accese le luci ora le mie sono un tantino scariche comunque è uno specchio led ed è molto comodo molto carino per truccarsi è fenomenale ed è appunto solo per cadere ed è appunto qui dentro ora non ve lo sto ad aprire è lui l'altro specchio led quindi anche questo poi ancora ora non voglio vedere lo specchio è brava male poi questa pocettina è la pocetta dei pennelli quindi avete la pocettina con il set di pennelli viso poi un set di pennelli occhi in stile unicorno quindi questi qui ce li ho anch'io e sono bellissimi questi sono da viso però anche quelli da occhi che non trovo eccomi qua sono fatti così con appunto il manico ad unicorno e le setole arcobaleno sono veramente veramente belli e voi avete quattro pennelli di cui tre due da sfumatura uno metà da sfumatura metà lingua di gatto sono veramente veramente carissimi oltre fatto che sono comodi poi una palette viso questa qui è il fake della palette di The Balm che ho anch'io me l'avete richiesta voi alla fine perché appunto vi ho chiesto in un video vi chiesi ma cosa volete insomma fatemi sapere e voi me l'avete me l'avete richiesta quindi questa qui è vostra questa è la mia e ve la mostro è molto molto bella oltre al fatto che ha dei colori che potete utilizzare sempre fatta così sono dei marroncini dei grigi un grigio viola molto bello un bianco bellissimo un color cioccolato un color biscotto bella 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 prettamente invernale secondo me molto molto carina poi abbiamo i variati campioncini e anche delle fasucce molto interessanti allora vi ho messo anche questo qui che è della mercy handy io mi sono trovata benissimo e voglio farmelo provare quindi vi ho messo un solo prodotto considerate che mercy handy consiglia appunto di metterselo tutto utilizzarlo tutto in una sola applicazione io con una bustina ci ho fatto tipo tre o quattro ma anche cinque applicazioni perché se vi mettete tutto il prodotto in bocca oltre al fatto che vi disgusta vi dà fastidio quindi bisogna dosarlo bene utilizzatelo per tre o quattro volte e vi garantisco che sbianca i denti poi questi qui che sono dei patch unghie e appunto sono fatti a sono fatti così e se non sbaglio sono tutti uguali tutti dello stesso colore mi sa che li ho selezionati di mi si bugiamo sono tutti dello stesso colore nel senso che potete fare un'applicazione con questo color pesca bellissimo e poi se volete potete decorare un un solo dito sulla unghia con questi qui che sono con le stelline che sono con i quadrettini questo qui è natalizio è bellissimo e poi c'è questo rosso io vi metterò la foto su instagram così che appunto potete vedere bene il contenuto di questo giveaway e poi ci sono vabbè a parte i campionicini che sono tantissimi appunto un attacco di tosse allucinante sto ancora piangendo è incredibile sono veramente raffreddata poi questi patch questi patch questi ferma capelli ma mi sa che ve l'avevo già detto per il trucco ce la puoi fare Ale ce la puoi fare a finire questo video poi questi campionicini qui che sono i finiti uno di colistare è un siero fantastico questi qui che sono defondotinta più un un primer questi di Vichy e queste creme qui sempre per quanto riguarda o il piattone a finire questo sempre per quanto riguarda il make up poi ho voluto mettervi nel giveaway queste qui che non sono pasticche queste sembrano pasticche ma sono maschere sono delle maschere che potete utilizzare voi come meglio credete ve ne ho messe 10 non so le potete anche regalare se volete sono comodissime perché se create voi una lozione se create voi una vostra maschera utilizzate questo e potete mettervi la maschera in faccia praticamente la maschera di di fotone la mettete in un vi consiglio di mettere in un mezzo di pietra d'acqua e quella si apre tu metti la pasticca e quella si apre poi la immergi nella lezione che crei insomma per la maschera e te la metti in faccia detto questo i premi sono finiti poi ci sono c'è una serie di campioncini comunque all'interno spero che questi premi vi siano piaciuti se così fosse spoliciate 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 ragazzi e ragazzi mi raccomando seguite bene le regole io spero insomma che siate in tanti a partecipare ricordate che più cresciamo e più giveaway ci saranno quindi ogni tot ogni periodo io lancerò giveaway sono felicissima per voi ragazze e ragazze in bocca al lupo a tutti noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video alla prossima ciao